Musica Buonasera, buonasera da OndaDG, in primo piano l'episodio di Scanno, cervo carica, turisti e forestali. Grande spavento questa mattina nel Borgola, Custre, dove un gruppo di visitatori e carabinieri hanno rischiato di rimanere feriti. Interviene il parco mentre il sindaco annuncia un'ordinanza. Facciamo il punto nel nostro servizio. Un cervo a pochi metri dal lago di Scanno ha caricato un gruppo di turisti che si erano avvicinati all'animale per scattare alcune foto. Il gruppo spaventato ha chiesto l'intervento dei forestali giunti sul posto da Canzano. Una volta arrivati per riportare la calma, anche i militari sono stati caricati dal cervo. Non ci sono stati feriti. La vicenda ha spinto il sindaco di Scanno, Giovanni Mastro Giovanni, a valutare un'ordinanza per applicare le distanze di sicurezza che sarà adottata nelle prossime ore. Oggi stesso ha spiegato, mi sono relazionato con l'Asle e il parco nazionale per adottare i provvedimenti. Dobbiamo tutelare l'esemplare cittadini come è avvenuto con gli orsi. È bello immortalare i cervi, ma va fatto con tutte cautele, soprattutto nella stagione dell'amore. Sul posto è intervenuto anche il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che effettuerà servizi mirati, come confermano dall'ente. Il realizza avventura in Kenya per Claudia Federico, una giovane sulmonese bloccata con gli italiani per le proteste tra il governo e la compagnia. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Dopo una notte passata alla ghiaccio nel parcheggio fuori dall'aeroporto internazionale di Nairobi, a causa dello sciopero del personale che ha bloccato ieri sera lo scalo e non è ancora terminato, per almeno una ventina di italiani e centinaia di altri passeggeri stranieri proseguono i disagi e l'ansia di non sapere quando potranno fare ritorno in Italia dopo la vacanza in Kenya. Tra di loro ci sono anche due giovani della provincia dell'Aquila, la sulmonese Claudia Federico, fila dell'ex sindaco e suo fidanzato Dario Ciablini. Abbiamo passato la notte alla ghiaccio perché la temperatura scende rispetto alle ore centrali della giornata. Ci è stato concesso l'uso del bar che si trova a 20 minuti. Stiamo bene, attendiamo comunicazioni, ha fatto sapere Claudia. Una situazione surreale causata dallo sciopero dei lavoratori aeroportuali. Già annunciato da tempo che allora il governo non avesse intavolato una trattativa per dare loro assicurazioni riguardo al ventilato contratto di cessione della gestione dell'aeroporto alla compagnia indiana Adani per i prossimi 30 anni. Intanto è cessata la sospensione per Don Daniel. Il prete positivo alla cocaina non torna in dioce, si è fatto sapere tramite il suo legale. Il nostro servizio. Don Daniel Arturo Cardenas, il sacerdote che lo scorso 10 marzo era risultato positivo alla cocaina dopo essersi schiantato con l'auto sulla statale 17 tra Solmone e Prato La Pelinia, potrà presto tornare a celebrare la messa e i ritiri religiosi, lo annuncia il suo avvocato Gerardo Marrocco di Santa Maria Capoavetere. Il sacerdote, a cui la polizia aveva ritirato la patente di guida perché guidava è stato in alterazione, con la cocaina a mille, era stato sospeso dal vescovo di Ocesano. Monsignor Michele Fusco, che lo aveva allontanato anche da Revisondoli, dove era parroco, viste le due reazioni che la vicenda aveva suscitato tra i parrocchiani e la comunità. Lo stesso sindaco del paese Alto Sangrino, Giancarlo Iarussi, aveva chiesto al vescovo di allontanare Don Daniel. I termini della sospensione sono ora scaduti, trascorsi sei mesi dall'episodio, ma il sacerdote non rientrerà in diocesi. Visto il clamore che ha suscitato la vicenda, resterò a Rosero degli Abruzzi, dove ho trascorso questi mesi, e dove ho trovato ora l'equilibrio, ha fatto sapere Don Daniel tramite il suo avvocato Marrocco. L'indagine della procura della Repubblica dell'Aquila non è stata ancora chiusa, dove aver perso il controllo dell'auto, finendo su guard raid alla statale 17, Don Daniel era stato a soccorso dei passanti fino all'arrivo dell'ambulanza del 118, che lo aveva trasferito nell'ospedale di Sulmona. Qui era stato medicato e sottoposto agli esami tossicologici, che avevano dato essito positivo. A carico del prete, come atto dovuto, era scattata la denuncia e il ritiro della patente. Tuttavia Don Daniel, sempre tramite il suo avvocato, si era difeso, sostenendo di non aver mai assunto volontariamente la sostanza stupefacente, ma di averla ingerita per errore. La cronaca ci riporta Sulmona a far rumore con il martello rissa sfiorata nella palazzina Ater di via 25 Aprile, dove è intervenuta la polizia. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Far rumore con il martello mentre segue alcuni lavori in casa e scoppia la lite nella palazzina Ater. È accaduto in via 25 Aprile a Sulmona, dove si è sfiorata la rissa e si è quindi reso necessario l'intervento della squadra volante del commissariato per riportare la calma tra gli inquilini che stavano venendo alle mani. Tutto è cominciato quando un 54enne stava spostando alcune mattonelle all'interno della sua abitazione, ma detta dell'inquilina del piano inferiore, faceva rumore. La figlia della donna si è quindi recata nell'abitazione del 54enne e a quel punto è scoppiata la lite. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito in casa, mentre la donna ha spiegato le persone e invitato il 54enne a non far rumore per rispettare il diritto al riposo delle persone. Sono lavori che ho concordato con il tecnico dell'Ater. Queste persone che nemmeno risiedono nella palazzina devono finirla di sentirsi padroni. Si sfoga l'uomo con i poliziotti. Diversa la tesi della donna, secondo la quale, dopo averlo invitato a regolare il rumore, il 54enne si è messo a urlare, creando scompiglio. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha ascoltato le varie testimonianze. Una vicenda che avrà probabilmente uno strascico giudiziario dal momento che l'uomo presenterà una denuncia. Sul posto sono intervenuti perfino i vigili del fuoco per aprire la porta del 54enne, rimasto accidentalmente fuori casa dopo la lite. E ora la folle guida di una donna immortalata con lo smartphone 5 km in contrumano sulla statale 17. Ora stanno indagando le forze dell'ordine. Vediamo tutto nel nostro servizio. Percorre 5 km in contrumano in un tratto di strada a scorrimento veloce. Rischia di provocare un incidente. È accaduto nel pomeriggio di ieri tra Sulmone e Prato La Peligna, sulla strada statale 17. L'auto, una Seat di colore nero guidata da una donna, si è messa sulla quattro corsie all'altezza di Vedele Metamorfosi, ovvero nella rampa di accesso della zona Peppe in direzione Prato La Peligna, ha percorso tutta la strada a scorrimento veloce, fino al termine della quattro corsie nei pressi di Santa Brigida, dal km 94 al km 99. Durante il tragitto la donna ha ignorato i segnali d'allarme lanciati dagli altri conducenti che hanno suonato riperutamente il claxon per richiamare la sua attenzione. Solo all'altezza di Santa Brigida la donna ha riportato l'auto nella giusta carreggiata. Fortunatamente, nonostante l'evidente pericolo, non si sono verificati incidenti. L'episodio è stato immortalato da un automobilista, ora le attualità stanno lavorando per intracciare la conducente e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ci fermiamo con la prima parte a tra poco con le nostre notizie. L'atte più buono Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione e sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, terra antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione di una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli Via Edward Lear Azulmuna Grazie a tutti. 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 Il nostro privilegio è stato privilegiato dove coltivare i vostri talenti e le vostre passioni ha affermato Monsignor Fusco rivolgendosi agli studenti. È qui che imparerete a conoscere voi stessi, a confrontarvi con gli altri e a costruire relazioni autentiche e durature. Monsignor Fusco ha inoltre espresso un profondo ringraziamento a tutti gli operatori scolastici per il loro prezioso lavoro. Siete guide e maestri, ma siete anche amici e confidenti, ha sottolineato, riconoscendo il ruolo fondamentale degli insegnanti e dei dirigenti nel formare cittadini consapevoli e responsabili. Guardando al futuro, il Vescovo ha invitato la comunità scolastica a lavorare insieme per creare una scuola che sia un luogo di crescita, di confronto e di inclusione, dove ognuno possa sentirsi accolto e valorizzato. E ora in carcere di Sulmona, il nuovo padiglione slitta ancora al 2025, ancora pochi gli agenti in servizio. Slitta al 2025 è la realizzazione del nuovo padiglione nel carcere di massima sicurezza a Sulmona e quando venuto fuori nel corso della visita che la CGL ha effettuato questa mattina nel penitenziario Peligno per incontrare il direttore personale e fare punto della situazione sull'organico in dotazione. A Sulmona è previsto l'arrivo di ulteriori 250 detenuti che si andranno a sommare ai 500 già rinchiusi nella struttura penitenziaria. L'apertura del nuovo corpo carcerario slitta per mancanza di personale, come ricordano da sindacato, stiamo pagando il prezzo del blocco delle assunzioni degli anni 2000. Intervengono i sindacalisti. Sì, in effetti in questo periodo stiamo pagando il prezzo del blocco delle assunzioni degli anni 2000. Difatti molto spesso ci troviamo o personale molto anziano o personale molto giovane e soprattutto per il personale molto giovane c'è un problema di formazione perché vero è che fanno la formazione nelle scuole però il nostro è un lavoro molto particolare dove la formazione quella vera te la fai sul posto di lavoro e se mancano il personale anziano che ti accompagna e che ti istruisce in maniera molto molto professionale ma sul pratico diventa molto difficile lavorare e questi detenuti lo percepiscono ancora prima di noi. La CGL rimarca anche l'inopportunità di ospitare collaboratori di giustizia in un carcere di massima sicurezza e quindi riporre un freno all'ingresso dei telefoni dietro le sbarre. Solo da gennaio ad oggi sono 40 device scoperti dai penitenziari in una circostanza e sarà trovata anche la droga. Il problema si può superare solo con l'ausilio e con il personale, con l'ausilio di mezzi tecnologici per quanto riguarda l'introduzione di materiale tecnologico, quindi telefoni, microtelefoni e quant'altro. Per quanto riguarda la droga è necessario l'ausilio delle unità cinofile perché altrimenti diventa quasi impossibile il ritrovamento e soprattutto garantire una sorveglianza maggiore, avere più persone che possano essere impiegate sui controlli degli effetti che entrano dall'esterno, sul personale che entra dall'esterno. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Una bella storia di buona sanità arriva dall'ospedale di Sulmona, il rovescio della medaglia che finisce nell'alveo della buona notizia a raccontare la sua storia e la signora Sandra. Il 30 gennaio 2024 mi è stato diagnosticato il piede diabetico, una notizia che ha lasciato me e la mia famiglia sconvolti e disorientati, scrive Sandra in una lettera che vi mostriamo. Ci siamo ritrovati improvvisamente catapultati in una realtà di incertezza senza sapere a chi rivolgersi o di chi potessimo fidarci completamente. Nell'arco di pochi giorni ho visto il mio piede sinistro gonfiarsi e arrossarsi fino alla comparsa di una ferita molto dolorosa sull'avampiede. Le prime consulenze mediche non lasciavano presagire nulla di buono. Tra le ipotesi più gravi c'era la possibilità di un'amputazione dell'avampiede, un pensiero che ci ha terrorizzati. Durante questo periodo ho incontrato molti medici che con il loro approccio freddo e distaccato hanno alimentato le mie paure, lasciandomi con poche speranze di recupero. La mia storia però ho preso una svolta positiva quando mi sono rivolto all'ambulatorio dell'unità operativa di chirurgia diretta da Mauro Favoriti, affidandomi alla sua equipe di validi e dirigenti medici. La dottoressa Fascione, il dottor Russo, Di Gregorio, Pontecorbi, Silvestri, Mafio. Qui sono stata seguita personalmente dallo specialista del settore, Panfilo Di Gregorio. È stato un vero dono di Dio, un angelo custode, che con grande umanità, pazienza e professionalità ha preso su di sé il mio dolore e mi ha accompagnata lungo tutto questo difficile percorso. Grazie alla competenza dell'equipe dell'ambulatorio di vulnologia e chirurgia rigenerativa e delle medicazioni a tecnologia avanzata ho superato la sfida del piede diabetico. Oggi sono stabile, sono stata sottoposta alla disarticolazione del quinto raggio del piede sinistro, un intervento minimamente invasivo, ma ho ancora il piede e posso camminare con le mie gambe. Sono completamente guarita sia dalla ferita chirurgica sia dall'ulcera plantare dell'avampiede. La vita mi ha messo di fronte a una scelta cruciale, affidarmi al medico giusto. Oggi posso dire con certezza che non avrei potuto fare una scelta migliore. Grazie di cuore al dottor Di Gregorio per avermi ridato la speranza e la possibilità di continuare a camminare anche nell'immediato post-operatorio, consigliandomi una calzatura ortopedica che si è rivelata utilissima ed essenziale. Spero di cuore che questa testimonianza sia di aiuto a chi si trova nella mia stessa situazione. Grazie a tutti.